Capitolo 6. Un segreto storico. La decisione di Beutrelet fu immediata. Avrebbe agito da solo. Informare la polizia era troppo pericoloso. Le sue erano soltanto supposizioni e temeva le lungaggini della giustizia, le immancabili indiscrezioni e tutta un'indagine preliminare durante la quale Lupin, che inevitabilmente ne sarebbe stato informato, avrebbe potuto ritirarsi con ordine in tutta comodità. L'indomani alle otto di mattina, con le valigie fatte, abbandonò la locanda dove soggiornava nei pressi di Cusion. Nel primo boschetto che incontrò si disfece delle vesti di operaio e, nuovamente giovane pittore inglese, si presentò al notaio di Eguson, il principale borgo del circondario. Raccontò che la regione gli piaceva e che se avesse trovato una dimora adeguata, si sarebbe volentieri trasferito con i genitori. Il notaio gli elencò una serie di proprietà. Beutrelet lasciò tuttavia intendere che gli avevano parlato di un certo Castello della Guglia, a nord del fiume Creus. «Ma certo, il Castello della Guglia, da cinque anni, è di proprietà di un mio cliente. Il fatto è che non è in vendita. Il suo cliente vi abita, dunque?» Vi abitava, o meglio, era la madre a viverci, ma lo trovava un po' triste e non era contenta. Perciò, l'anno scorso si sono trasferiti altrove. «E ora è disabitato?» «No, vi soggiorna un italiano che l'ha affittato dal mio cliente per l'estate, il barone Anfredi?» «Ah, il barone Anfredi? Un uomo ancora giovane, dai modi scostanti. Non saprei dirlo, è stato il mio cliente a trattare. Non c'è stato un contratto, soltanto una lettera. Quindi non conosce il barone?» «In verità no, non esce mai dal castello se non di notte, a quanto pare. È in automobile. Ha una vecchia cuoca che si occupa delle provviste e che non parla mai con nessuno. È gente un po' strana. Il suo cliente non sarebbe disposto a vendere il castello?» «Non credo. È un castello storico, nel più puro stile Luigi XIII. Il mio cliente è sempre stato molto affezionato. Se nel frattempo non ha cambiato opinione...» «E lei sarebbe in grado di dirmi il nome e l'indirizzo?» «Luz Valmeras Rue de Montebotte 34». Beutrelet prese il treno per Parigi dalla stazione più vicina. In capo a due giorni e due visite infruttuose trovò finalmente il Luis Valmeras. Era un uomo sulla trentina dal viso schietto e simpatico. Beutrelet ritenne inutile tergiversare. Si precipitò per chi era in realtà e riferì l'intera vicenda e quali fossero i suoi scopi. «Ho tutte le ragioni per ritenere, concluse, che all'interno del castello si è imprigionato mio padre, sicuramente insieme ad altre vittime, e sono qui per domandarle che cosa sa del suo affittuario, il barone Affredi?» «Non molto. Ho incontrato il barone l'inverno scorso a Monte Carlo. Ero venuto casualmente a sapere che possedevo un castello e, visto che desiderava trascorrere l'estate in Francia, si è offerto di affittarlo. Un uomo ancora giovane. Sì, con uno sguardo molto intenso, i capelli biondi. Ha la barba? Ha due punte, spioventi su un colletto rigido, laciato dietro, simile a quello di un clanger man, in effetti ha un po' l'area del prete inglese. È lui, mormorò Beutrelet. Proprio lui, tale e quale l'ho visto con i miei occhi e il suo ritratto perfetto. Ma come? Crede davvero? Sì, credo. Anzi, sono sicuro che il suo affittuario non sia altri che Arsenio Lupin. Quella storia divertì Luis Valmeras. Conosceva ogni avventura di Lupin e gli antefatti del duello con lo studente del liceo si sfregò le mani. Sembra proprio che il castello della Guglia stia per diventare famoso, il che, sotto sotto, non mi dispiace perché da quando mia madre non vi abita più mi frulla in testa l'idea di sbarazzarmene alla prima occasione, dopo una storia simile, trovare un compratore sarà una passeggiata. Soltanto... Soltanto? La pregherei di agire con la massima prudenza e di avvisare la polizia solo quando avesse l'assoluta certezza. Si immagini se il mio inquilino non fosse veramente Lupin? Beutrelet gli spieghiò il suo piano. Raggiungere il castello da solo, di notte, scalare la mura e, nascosto nel parco, Luis Valmeras lo fermò subito. Non riuscirà a scavalcare tanto facilmente delle mura di quell'altezza e, anche se ci riuscisse, la accoglierebbero i due enormi mastini di mia madre che ho lasciato nel castello. Un boccone avvelenato? Ma grazie, che idea! E anche supponendo che riesca a evitarli, come pensa di rientrare nel castello? Le porte sono di legno massiccio, le finestre hanno le inferiate. E come riuscirebbe a orientarsi poi? Ci sono 80 camere. Capisco. Ma la stanza con due finestre al secondo piano? L'ho ben presente e soprannominata la stanza dei glicini. Non riuscirebbe mai a trovarla. Ci sono tre scale e un labirinto di corridoi. Potrei darle tutte le indicazioni, spiegare il percorso tutte le volte che vuole, si perderebbe lo stesso. Allora venga con me, disse ridendo a Beutrelet. Impossibile. Ho promesso di raggiungere mia madre nella Francia del Sud. Beutrelet ritornò a casa dell'amico da cui era ospite e iniziò a fare i bagagli. Verso sera, ormai pronto a partire, ricevette una visita. Era Valmeras. Mi vuole ancora con lei? E come? E allora l'accompagno. La spedizione sembra vincente, mi diverte l'idea di partecipare. Sono sicuro che non ci sarà da annoiarsi e che il mio aiuto le tornerà utile. Tenga, ecco un anticipo della nostra collaborazione. Mostra una grossa chiave dall'aspetto venerando, tutta segnata dalla ruggine. E che cosa aprirebbe questa chiave? domandò Beutrelet. Una postierla nascosta tra due contrafforti. Quella porticina è in disuso da secoli, perciò non ho reputato necessario menzionarla al mio affittuario. Da direttamente sull'esterno, proprio dove inizia il bosco. Conosco quell'accesso. Lo interruppe bruscamente a Beutrelet. Proprio da lì è entrato nel parco l'individuo che seguivo. La partita si fa sempre più interessante e noi la vinceremo. Ma per Diana bisognerà giocare d'astuzia. Due giorni dopo, al passo di un cavallo macilento, giungeva a Crozant una roulette di zingari che ebbe autorizzazione di stazionare alle porte del villaggio, sotto un vecchio cappannone abbandonato. Insieme al conducente, che altri non eras e non Valmeras, c'erano tre giovani che si davano un grande affare per intrecciare poltroncine di vimini, Beutrelet e due compagni del liceo Jenson. Rimasero là per tre giorni, aspettando una notte propizia e spingendosi in ava scoperta, uno per volta all'esterno delle mura. Una notte Beutrelet scorse la postierla, si apriva tra due contraforti e quasi si confondeva tra i rovi che la celavano col disegno delle pietre del muro. Alla quarta sera il cielo si coprì finalmente di grandi nuvole nere. Valmeras decise che avrebbero tentato un'offensiva, pronti a tornare sui propri passi se le circostanze non fossero state favorevoli. I quattro sbucarono dal boschetto. Beutrelet strisciò fra gli arbusti, si scorticò le mani fra i rovi e sollevatosi un poco lentamente, con gesti cauti, introdusse la chiave nella serratura. Piano la girò. La porta si sarebbe aperta senza altro sforzo? O dall'altra parte la chiudeva un chiavistello? Spinse, la porticina si aprì senza cigoli, senza sussulti. Beutrelet era nel parco. È entrato? domandò Valmeras. Aspetti lì, voi due amici sorvegliate la porta in modo che non ci taglino la ritirata. Al minimo allarme un colpo di fischietto. Prese per mano Beutrelet e insieme si addentrarono nell'ombra fitta dei cespugli. Uno spiazzo più sgombro si aprì davanti a loro. Erano giunti ai bordi del prato centrale. In quel momento un raggio di luce filtrò fra le nubie davanti ai loro occhi si profilò il castello, con la corona di pinnacoli intorno alla cuspide guzza a cui doveva senza dubbio il proprio nome. Nessuna luce alle finestre, nessun rumore. Valmeras afferrò il braccio del compagno. Silenzio! Che c'è? I cani, laggiù! Si sentì un ringhiare cupo. Valmeras fischiò, pianissimo. Due sagome bianche spiccarono dall'ombra e in quattro balzi vennero ad accucciarsi ai piedi del padrone. Piano, piccoli miei, accuccia! Bravi, fermi ora! Poi, rivolto a Bertolet. Ora sono tranquillo, possiamo proseguire. È sicuro della strada? Sì, siamo vicini alla terrazza. E allora? Ricordo che sulla sinistra, dove la terrazza che domina il fiume è a livello delle finestre del pianerottolo, c'è un'imposta che chiude male e se si può aprire dall'esterno, se si vuole. Una volta giunti sul posto, l'imposta in effetti cedette al minimo sforzo. Valmeras tagliò un vetro con una punta di diamante, girò la spagnoletta e prima uno, poi l'altro, i due scavalcarono il davanzale. Erano nel castello. «Questa stanza», disse Valmeras, «si trova all'estremità di un corridoio. All'altro capo c'è un immenso vestibolo ornato da statue e, in fondo, la scalla che conduce la camera occupata da suo padre». Fece un passo avanti. «Viene, Beutralette?» «Sì, sì, non mi pare. Che ha?» Valmeras gli prese una mano, gelida. A quel punto si accorse che il ragazzo era ranicchiato sul parquet. «Che ha?» ripetè. «Niente, ora mi passa». «Ma insomma, ho paura». «Paura?» «Sì», ammise Beutralette con candore. «Sono i nervi che cedono. Di solito riesco a controllarmi, ma oggi il silenzio, la tensione, da quella coltellata del cancelliere. Ma ora passa. Guardi, va tutto bene». Riuscì in effetti ad alzarsi e si fece condurre da Valmeras fuori dalla stanza. Seguirono a tentone il corridoio, talmente in silenzio che non si sentiva nient'altro tranne la presenza dell'altro. Un flebile bagliore sembrava rischiarare il vestibolo dove si dirigevano. Valmeras passò in testa. La luce veniva da una piccola lampada da notte alla base della scala, su un tavolino che si intravedeva a malapena attraverso il fogliame di una palma. «Alt!» sibilò Valmeras. Accanto al lume, in piedi, c'era un uomo di guardia. Imbracciava un fucile. Li aveva visti? Forse. Di certo qualcosa l'aveva impensierito, perché aveva girato il capo. Beutralette si era lasciato cadere in ginocchio contro il vaso di un arbusto paralizzato, col cuore che batteva all'impazzata. Il silenzio e l'assoluta immobilità sembrarono tranquillizzare l'uomo che posò il fucile, ma col capo rimaneva voltato verso il vaso. I minuti trascorsero terrificanti, dieci, quindici. Da una finestra della scala filtrò un raggio di luna e Beutralette si rese conto tutto a un tratto che, sebbene inavvertibilmente il raggio si spostava e che nel giro di quindici minuti, forse dieci, sarebbe arrivato fino a lui illuminandolo in pieno viso. Delle gocce di sudore gli caddero dal viso sulle mani tremanti. L'angoscia era tale che fu sul punto di scattare in piedi e fuggire. Improvvisamente si ricordò della presenza di Palmeras. Lo cercò con lo sguardo e rimase sballordito al vederlo, o meglio indovinarlo, mentre scivolava fra le ombre di arbusti e statue. Un attimo dopo raggiungeva la base delle scale, vicino, vicinissimo all'uomo. Cosa intendeva fare? Tentare di passare? Salire e liberare i prigionieri da solo? Ma sarebbe riuscito a insinuarsi? Beutralette lo perse di vista, ma aveva la sensazione che stesse per succedere qualcosa, qualcosa che persino il silenzio più greve, più minaccioso, sembrava presentire. Di colpo un'ombra piombò sull'uomo, la lampada si spense, un rumore di lotta. Beutralette accorse. I due uomini erano arrotolati sul lastricato, fece perchinarsi, ma udì un gemito soffocato, un rantolo. Uno degli avversari si rialzò e lo prese per il braccio. Presto, andiamo! Era Palmeras. Salirono al secondo piano e si ritrovarono nell'imbocco di un corridoio il cui pavimento era coperto da un tappeto. A destra, disse Palmeras con un filo di voce, la quarta camera a sinistra. Poco dopo trovarono la porta della stanza. Il prigioniero era tenuto sotto chiave, come previsto. Impiegarono mezz'ora per forzare la serratura, mezz'ora di tentativi silenziosi, di sforzi soffocati. Finalmente entrarono. Brancolando, Beutralette trovò il letto. Suo padre dormiva. Lo svegliò piano. Sono io, Isidor, con un amico. Non aver paura. Alzati, non dire nulla. Il padre si vestì, ma sul punto di uscire disse a bassa voce. Non sono il solo prigioniero nel castello. Ah, chi altri c'è? Ganimard, Sholms? No, o almeno non li ho visti. E dunque c'è una ragazza. Mademoiselle de San Veran, giusto? Non lo so. L'ho intravista parecchie volte nel parco da lontano. Se mi sporco dalla finestra posso vedere la sua. Mi ha fatto dei segnali. Sai dove si trova la sua camera? Sì, su questo stesso corridoio. La terza a destra. La camera blu, mormorò Valmeras. Ha una porta a due battenti. L'apriremo facilmente. Nel giro di pochissimo, in effetti, uno dei battenti cedette. Fu Beutralette padre a entrare per avvisare la fanciulla. Dieci minuti più tardi usciva dalla camera insieme a lei. Avevi ragione, disse al figlio. È Mademoiselle de San Veran. Scesero tutti e quattro al pianerottolo. In fondo alla scala, Valmeras si fermò e si chinò sull'uomo. Poi proseguì verso la terrazza. Non è morto, disse. Vivrà. Ah, sospirò Beutralette sollevato. Per sua fortuna, la lama del coltello si è piegata e il colpo non è stato mortale. Del resto, questi banditi non meritano certo pietà. Fuori, vennero accolti da due cani che li accompagnarono fino alla postierla. Lì, Beutralette ritrovò i due amici e il gruppetto uscì dal parco. Erano le tre del mattino. A Beutralette quella prima vittoria non poteva certo bastare. Non appena il padre e la fanciulla furono al sicuro, le interrogò sulle persone che vivevano nel castello e soprattutto sulle abitudini di Arsenio Lupin. Seppe così che questi vi si recava ogni tre o quattro giorni, arrivava la sera in automobile e ripartiva al mattino presto. A ogni visita si intratteneva con i due prigionieri che concordarono nell'elogiarne le attenzioni e l'estrema gentilezza. In quel momento non doveva essere al castello. Al di fuori di Lupin i prigionieri avevano visto soltanto un'anziana donna che si occupava della cucina e del servizio e due uomini che li sorvegliavano a turno senza rivolgerle loro la minima parola. Di sicuro due subalterni, a giudicare dai modi e dall'aspetto. Pur sempre due complici, concluse Beutrelette. Anzi tre, contando la donna, e sono prede da non disdegnare se non perdiamo tempo. Inforcò una bicicletta e filò al borgo di Egusson. Qui svegliò l'intera gendarmeria. Mise tutti sul chi vive, fece suonare il segnale. Per le otto tornava Croissant seguito dal brigadiere e otto gendarmi. Due di questi rimasero alla guardia della roulotte. Altri due si misero di piantone alla postierla. I restanti quattro, ai comandi del superiore, insieme a Beutrelette e Valmeras, raggiunsero l'ingresso principale del castello. Troppo tardi. Il portone era spalancato e un contadino riferì di aver visto un'automobile uscire dal castello un'ora prima. La perquisizione non diede alcun risultato. Era molto probabile che la banda si fosse semplicemente accampata. Trovarono indumenti, biancheria, qualche masserizia, nient'altro. Ciò che però stupì maggiormente Beutrelette e Valmeras era la sparizione del ferito. Non ritrovarono alcuna traccia della lotta, nemmeno una goccia di sangue sul pavimento lastricato del vestibolo. Il mancato rinvenimento della benché minima prova materiale del passaggio di Lupen al castello della Guglia avrebbe del tutto smentito le asserzioni di Beutrelette e del padre, di Valmeras e della signorina de Sanberan, se, alla fine non si fosse scovata, in una stanza accanto a quella occupata dalla ragazza, una mezza rozina di meravigliosi mazzi di fiori accompagnati da un bigliettino del segno Lupen. Mazzi disdegnati dalla fanciulla, che giacevano appassiti, dimenticati. Da uno di essi, insieme al biglietto, pendeva una lettera che era sfuccita a Raymond. La busta venne aperta nel pomeriggio dal giudice istruttore. Conteneva dieci pagine di preghiere, suppliche, minacce, disperazione, tutta la follia di un amore che non aveva conosciuto altro che disprezzo e avversione. Così terminava la lettera. Verrò martedì sera, Raymond. Fino ad allora la prego di riflettere. Per quanto mi riguarda, sono disposto a tutto. La sera di martedì era la successiva alla notte di cui Beutrelet aveva liberato la signora de Sanveran. È ancora vivo il ricordo della formidabile esplosione di sorpresa ed entusiasmo che proruppe in tutto il mondo alla notizia dell'inaspettato epilogo. Mademoiselle de Sanveran libera, la fanciulla tanto desiderata d'Arsenio Lupen che per lei aveva architettato le trame più marchiavelliche strappate alle sue grinfie. È libero anche il vecchio Beutrelet, colui che l'avventuriere aveva preso in ostaggio per ottenere l'armistizio necessario alle esigenze della sua passione. Liberi, liberi entrambi. È il segreto dell'aguglia che tutti avevano creduto impenetrabile, svelato, pubblico, spiattellato dai quattro angoli del mondo. La gente si divertì immensamente. Si fece persino beffe dell'avventuriero sconfitto. Gli amori di Lupen, i singhiozzi di Lupen, nel ladro innamorato, il lamento del rapitore. Questo e altro si inneggiava per strada e si canticchiava fra le pareti di casa. Subbissata di domande, braccata dai giornalisti, Raymond reagì col massimo riservo. Ma c'era la lettera e i mazzi di fiori e tutta quella struggente vicenda. Lupen schernito, sbillaneggiato, precipitò dal piedistallo e Beutrelet divenne l'idolo. Aveva indovinato tutto, predetto tutto, spiegato tutto. La deposizione che la signorina de Sanveran rese davanti al giudice istruttore in merito al rapimento confermò l'ipotesi formulata dal giovane. La realtà sembrava sottomettersi in ogni particolare a tutto ciò che egli aveva stabilito da tempo. Lupen aveva trovato un vincitore assoluto. Beutrelet volle che il padre, prima di tornare alle sue montaglie in Savoia, si prendesse qualche mese di riposo al sole. Così lo accompagnò di persona, e con lui la signorina de Sanveran nei paraggi di Nizza, dove trascorrevano l'inverno il conte de Gevres e la figlia Susanna. Due giorni dopo, Valmeras portava a sua volta la madre dai nuovi amici, e fu così che si formò una piccola colonia nella villa, sorvegliata giorno e notte da una mezza dozzina di uomini alle dipendenze del conte. Agli inizi di ottobre, lo studente di retorica Beutrelet tornò a Parigi per riprendere gli studi e la preparazione degli esami. La vita ricominciò tranquilla, senza incidenti. Cos'altro sarebbe potuto accadere del resto? La guerra non era forse finita? Lupen doveva essere dello stesso avviso, ovvero che bisognasse rassegnarsi alla realtà dei fatti. Perché un bel giorno ricomparvero anche le altre due vittime, Ganimard e Erlok Sholms. Un ritorno alla vita e al mondo quanto mai inglorioso. Li raccolse da terra uno straccivendolo in Quai de Ophres, proprio davanti alla profettura di polizia, legati e narcotizzati. Dopo una settimana di totale confusione, riuscirono a ritrovare il filo dei pensieri e riferirono, o meglio fu il solo Ganimard a raccontare, poiché Sholms si trincerò in un feroce mutismo, di aver compiuto a bordo dello yacht Irindel la circumnavigazione completa dell'Africa. Un viaggio affascinante, istruttivo, durante il quale avevano potuto considerarsi quasi liberi a eccezione di alcune ore, quando erano costretti a scendere sotto coperta mentre l'equipaggio sbarcava in porti esotici. Dell'ultimo approdo, quello al Quai de Ophres, non ricordavano però nulla, sicuramente narcotizzati da vari giorni. Questa liberazione era una dichiarazione di resa. Lupin abbassava le armi e la proclamava senza condizioni. Un nuovo avvenimento del resto, la rese ancora più eclatante, il fidanzamento di Louise Balmeras e Mademoiselle de Saint-Véran. Nell'intimità creatasi dalle circostanze delle loro vite, i due giovani si erano innamorati. Balmeras si era invaguito del fascino malinconico di Raymond e questa, ferita dalla vita, avida di protezione, soggiacque al vigore e all'energia di colui che aveva così coraggiosamente contribuito alla sua salvezza. Una certa ansia accompagnò l'attesa del giorno del matrimonio. Lupin sarebbe forse tornato all'attacco? O avrebbe accettato di buon grado la perdita irrimediabile dell'amata? In due o tre occasioni alcuni uomini dall'area sospetta furono visti a girarsi nei paraggi della villa e una sera Balmeras dovette difendersi da un presunto ubriaco che esplose in un colpo di pistola, sforacchiandogli il cappello. Alla fine, tuttavia, la cerimonia si svolse nel giorno e all'ora prestabiliti e Raymond de Saint-Véran divenne la signora Balmeras. Era come se il destino stesso si fosse schierato dalla parte di Beutrelet, controfirmando il bollettino della vittoria. Il pubblico ne ebbe la sensazione così netta che in quei giorni, fra gli ammiratori del ragazzo, prese piede l'idea di un grande banchetto celebrativo in onore del suo trionfo e dell'agnettamento di Lupin, un'idea meravigliosa che riscosse grande entusiasmo. Nel giro di due settimane si raccolsero 300 adesioni, furono estesi inviti ai licei parigini, due studenti per ogni classe di retorica, la stampa innalzò peana e il banchetto alla fine fu in tutto e per tutto ciò che prometteva ad essere un'apoteosi. Un'apoteosi simpatica e semplice però, perché l'eroe era Beutrelet. La sua presenza bastò per riportare le cose nell'alveo della normalità. Si dimostrò umile come sempre, un po' sorpreso da applausi eccessivi, un po' imbarazzato dagli elogi iperbolici che lo volevano superiore ai poliziotti più illustri, un po' imbarazzato ma anche molto commosso. Disse due o tre parole che piacquero a tutti, col turbamento tipico del bambino che arrossisce davanti agli sguardi altrui. Espresse la sua gioia, ammise il suo orgoglio e da persona tanto razionale, tanto padrona di sé, conobbe in quella circostanza minuti di euforia indimenticabili. Sorrideva agli amici, ai compagni di Jenson, a Valmeras, venuto apposta per applaudirlo, al conte de Gevress, al padre. Fu allora, proprio mentre finiva di parlare e stringeva ancora in mano il calice, che riechieggiò un vociare dal fondo della sala, e si vide un uomo gesticolare sventolando un quotidiano. Si ristabilì silenzio. L'importuno riprese posto, ma un fremito di curiosità si era ormai propagato lungo l'intera tavolata. Il quotidiano passava di mano in mano, e ogni volta che un convitano posava lo sguardo su quella pagina, era tutto uno sbottare di esclamazioni. «Leggete, leggete!» gridavano dal fondo della sala. Altavano d'onore, si alzarono tutti. Il vecchio Beutrelet andò a prendere il giornale e lo portò al figlio. «Leggete, leggete!» gridarono ancora più forte. «Adesso ascoltate però! Sta per leggere, ascoltate!» Beutrelet, in piedi, rivolto al pubblico, si mise a scorrere con gli occhi l'edizione della sera portata lì dal padre, in cerca dell'articolo che suscitava tanta baraonda. All'improvviso, scorto un titolo sottolineato a matita blu, alzò la mano per chiedere silenzio, e con voce sempre più alterata dall'emozione, lesse quelle stupefacenti rivelazioni che agnietavano ogni suo sforzo, sconvolgevano ogni sua idea sulla guglia vuota e proclamavano la vanità della sua lotta contro il segno lupenna. Lettera aperta al signor Massimban, dell'Accademie d'inscrizione Belle Tresse. Signor direttore, il 17 marzo 1679, sotto il regno di Luigi XIV, fu pubblicato a Parigi un libricino dal titolo «Il mistero della guglia vuota», tutta la verità rivelata per la prima volta, in cento esemplari da me stampati ai fini di istruzione della corte. Alle nove del mattino di quel 17 marzo l'autore, un uomo molto giovane e ben vestito, di cui si ignora il nome, si mise a distribuire gli esemplari del libro presso le case delle principali personalità della corte. Alle dieci, dopo essere riuscito a raggiungere quattro destinatari, fu arrestato per mano di un capitano delle guardie che lo condusse nel gabinetto del re e subito dopo ripartì in cerca dei quattro esemplari già recapitati. Quando tutti e cento gli esemplari furono riuniti, conteggiati, sfogliati e verificati con cura, il re in persona li gettò nelle fiamme, ad eccezione di uno che conservò per sé. Dopodiché incaricò il capitano delle guardie di condurre l'autore al signor de San Mars, che lo fece rinchiudere dapprima a Pinerolo, poi nella fortezza dell'isola di San Margherit. L'individuo evidentemente altri non era, se non il famoso uomo dalla maschera di ferro. La verità, o anche solo una parte di essa, non si sarebbe mai saputa se il capitano delle guardie che aveva assistito all'incontro, approfittando di un momento in cui il re era voltato di spalle, non avesse ceduto alla tentazione di sfilare dal cammino un altro esemplare prima che le fiamme l'avvolgessero. Sei mesi dopo, lo stesso capitano veniva trovato senza vita lungo la strada maestra da Gailon Amantes. Le assassini l'avevano spogliato di ogni possesso, dimenticando tuttavia nella tasca destra un gioiello che fu scoperto in seguito, un diamante di estrema purezza ed enorme valore. Fra le carte del capitano si ritrovò una nota manoscritta. Non faceva menzione del libro strappato alle fiamme, ma ne riassumeva i primi capitoli. L'argomento era un certo segreto noto ai re d'Inghilterra, disperso quando la corona del povero re folle Enrico VI passò sul capo del duca di York, poi svelato al re di Francia Carlo VII da Giovanna d'Arco, e divenuto in seguito segreto di stato, trasmesso di sovrano in sovrano grazie a una lettera risigillata ogni volta, che veniva deposta sul letto di morte del re defunto, con questa dicitura, «pel re di Francia». Questo segreto riguardava l'esistenza e l'ubicazione di un formidabile tesoro di proprietà dei re, che cresceva secolo dopo secolo. 114 anni più tardi, Luigi XVI, prigioniero della Tour de Temple, prendeva da parte uno degli ufficiali incaricati di sorvegliare la famiglia reale. «Signore», gli disse, «non avevate ai tempi del gran re, mio avo, un antenato con il grado di capitano delle guardie?» «Sì, sire». «Ebbene, avreste il coraggio, il coraggio!» Il re esitò, e fu l'ufficiale a concludere la frase. «Di non tradire sua maestà?» «Sire, ascoltatemi dunque». Il re trasse di tasca un volumetto da cui strappò le ultime pagine. Poi cambiò idea. «No, sir, meglio che copi!» Prese allora un grande foglio di carta che strappò in modo da conservare solo un pezzetto rettangolare, su cui copiò cinque righe che ripetevano i punti, le linee e le cifre che comparivano sulla pagina strappata. Poi, bruciata questa, piegò in quattro il foglietto manoscritto, lo sigillò con cera lacca e lo porse all'ufficiale. «Signore, dopo la mia morte, lo consegnerete alla regina e direte «Da parte del re, madama, per vostra maestà e suo figlio!» Se non capisse, se non capisse, aggiungerete «Si tratta del segreto dell'aguglia!» La regina capirà. Appena finito di parlare, il re gettò il libro nelle braci che rosseggiavano nel focolare. Il 21 gennaio saliva sul patibolo. L'ufficiale tardò ben due mesi a causa del trasferimento della regina al concierge per portare a compimento la missione affidatagli. Finalmente, a forza di intrighi tortuosi, riuscì a giungere al cospetto di Maria Antonietta. «Da parte del defunto re, madama», disse con un filo di voce mentre le consegnava il biglietto sigillato. «Per vostra maestà e suo figlio!» La regina si accertò che i guardiani non potessero vederla. Ruppe il sigillo e, alla vista di quelle righe indecifrabili, sembrò sorpresa. Poi, di colpo, parve comprendere e sorrise amaramente. «Perché tanto tardi?» l'udì mormorare l'ufficiale. Poi la regina esitò. Dove poteva nascondere il pericoloso documento? Alla fine aprì il libro di preghiere e insinuò il foglio in una specie di tasca segreta ricavata fra il cuoio della rilegatura e la pergamena che la ricopriva. «Perché tanto tardi?» aveva detto. È probabile che quel documento che, presumibilmente, avrebbe potuto salvarle la vita fosse in effetti giunto troppo tardi, poiché, quello stesso ottobre, Maria Antonietta saliva a sua volta i gradini del patibolo. Nel frattempo l'ufficiale, sfogliando le carte di famiglia, rinvenne la nota manoscritta del bisnonno, capitano delle guardie di Luigi XIV. Da quel momento in poi non ebbe più che un pensiero fisso. Dedicare ogni momento di libertà alla decifrazione dello strano enigma. Lesse tutti gli autori latini, consultò tutte le cronache di Francia e quelle delle nazioni vicine, si introdusse nei monasteri per compulsare i libri contabili, i cartulari, i trattati. Fu così che riuscì a trovare certe menzioni sparse nei secoli. Nel libro III, dei commentari sulla guerra gallica, di Giulio Cesare, si racconta che dopo la disfatta di Viridovich per mano di G. Titarius Abis, il capo dei Caleti, fu condotto davanti a Cesare e, a titolo di riscatto, rivelò il segreto della Guglia. Nel trattato di Saint-Claire su Epter, stipulato fra Carlo il semplice e Roll, capo dei barbari del nord, il nome di quest'ultimo comparve seguito da tutti i suoi titoli, fra cui padrone del segreto della Guglia. La cronaca sassone, edizione di Gibson, pagina 134, nella parte dedicata a Guglielmo di Gran Vigore, che altri non era se non Guglielmo il conquistatore, racconta che l'asta del suo stendardo terminava in una punta acuminata e cava, simile alla cruna di un ago. Giovanna d'Arco, in una frase alquanto ambigua tratta dal suo interrogatorio, confessa di avere ancora un segreto da rivelare al re di Francia. A questa i giudici rispondono, sappiamo a cosa alludete, ed è per questo, Giovanna, che perirete. Il buon re Enrico IV era solito giurare per la vertù della Guille, e prima ancora, nel 1520, Francesco I, nella sua ringa ai notabili dell'Havre, pronunciava questa frase, riportata nel diario di un borghese di Honfler. I re di Francia sono custodi di segreti che regolano il governo e le sorti della città. Tutte queste citazioni, signor direttore, e tutti i racconti sulla maschera di ferro, il capitano delle guardie e il pronipote, li ho ritrovati in questi giorni in un opuscolo scritto proprio da quest'ultimo e pubblicato nel giorno del 1815, alla vigilia o all'indomani della battaglia di Waterloo, ovvero un momento di grandi rivolgimenti in cui le rivelazioni che conteneva dovettero di certo passare inosservate. Qual è il valore di questo opuscolo? Nessuno, dirà lei, e non va preso minimamente sul serio. Tale è stato il mio primo pensiero. Ma quale stupore mi ha colto quando, aprendo i commentari di Cesare al capitolo indicato, ho ritrovato il passaggio riportato nell'opuscolo. Simili constatazioni ho fatto nel trattato di Saint-Claire-sur-Epte, nella cronaca sassone, nell'interrogatorio di Giovanna d'Arco, in breve, ovunque sia riuscito a verificare sinora. C'è inoltre un fatto ancora più preciso riportato dall'autore nel suo opuscolo. Ufficiale di Napoleone durante la campagna di Francia, costretto dalla morte del cavallo a bussare una sera al portone di un castello, fu ricevuto da un anziano cavaliere di San Luigi. Conversando con il vegliardo, venne a sapere che quel maniero situato sulle rive delle crese chiamato Castello della Guglia era stato costruito e battezzato da Luigi XIV e, per suo espresso ordine, ornato di pinnacoli e di quella Guglia che assomigliava a un ago. L'anno di costruzione riportato è il 1680. Il 1680, l'anno successivo alla pubblicazione del libricino e all'imprigionamento della maschera di ferro. Tutto si spiegava. Luigi XIV, temendo che il segreto potesse essere divulgato, aveva fatto costruire e battezzare il castello per sviare i curiosi, offrendo loro una spiegazione naturale dell'antico mistero, la Guglia Vuota. Nient'altro che un castello coronato di pinnacoli e situato in riva alla Cruz, di proprietà del re. Tanto sarebbe bastato ai ficcanaso per credersi in possesso della chiave dell'enigma ed esistere dalle ricerche. Un calcolo esatto, visto che più di due secoli più tardi il signor Beutrelet è caduto nella trappola. Ed è qui che volevo giungere, signor direttore, indirizzandole la presente lettera. Se Lupin, sotto il nome di Anfredi, affittato dal signor Valmeras il castello della Guglia sulle rive del Cruz, se vi ha alloggiato i suoi due prigionieri, è proprio perché dava per scontato il successo delle indagini del signor Beutrelet. E con lo scopo di ottenere quella tranquillità che aveva domandato aveva atteso al signor Beutrelet quello che potremmo ormai chiamare il tranello storico di Luigi XIV. Da tutto ciò traiamo una conclusione inconfutabile, ed è che Lupin, guidato dal suo intelletto, senza possedere maggiori conoscenze di quanto ne abbiamo noi, è giunto, grazie al sortilegio del suo genio davvero straordinario, a decifrare l'indecifrabile documento. Lupin, ultimo erede dei re di Francia, conosce il mistero regale della Guglia vuota. Così si concludeva l'articolo. Già da alcuni minuti però, sin dal passaggio che parlava del castello della Guglia, non era più Beutrelet a leggerlo. Accortosi della sconfitta, schiacciato sotto il peso dell'umiliazione subita, aveva abbandonato il giornale e si era lasciato cadere sulla sedia, col viso nascosto fra le mani. Sconcertata, turbata dall'emozione di quella storia incredibile, la folla si era avvicinata pian piano e ora si accalcava intorno al ragazzo. Tutti aspettavano, frementi d'ansia di sentire le parole con cui avrebbe risposto, le obiezioni che avrebbe sollevato. Lui però rimaneva immobile. Con un gesto gentile Valmeras gli districò le mani e gli sollevò il capo. Isidor Beutrelet piangeva. Isidor Beutrelet piangeva. Isidor Beutrelet piangeva. Isidor Beutrelet piangeva. Grazie.